Lombardia Alberto Ambrogi, buongiorno Alberto Sì buongiorno, noi ci troviamo proprio a Terno d'Isola nel luogo Mi pare che tu sia a Terno d'Isola, scusami ma purtroppo mi è arrivata una Mi è stato detto il modo sbagliato Non c'è nessun problema nel senso che nella giornata di ieri Nella giornata di ieri ci sono stati degli sviluppi per quanto riguarda l'andamento delle indagini Vi chiedo di togliere il ritorno da studio, grazie Perché è stato sentito per oltre 5 ore il compagno di Sharon Verzeni, Sergio Ruocco E anche il padre in caserma nel comando provinciale dei Carabinieri a Bergamo È stato sentito come persona informata sui fatti, questo va chiarito Non è un'indagine al momento che non ha iscritti nel registro degli indagati E questo va sottolineato, è anche importante sottolineare che chi indaga Nei giorni scorsi aveva sempre sottolineato l'atteggiamento collaborativo del compagno È stato sentito a lungo per chiarire alcuni aspetti della vita privata di Sharon Verzeni E questo ci ha portato a tornare qui perché l'indagine va avanti La persona che è stata arrestata nei giorni scorsi, che era in questo garage Dove ci troviamo noi perché è qua di fianco A mio avviso era una pista debole perché chi ha ucciso Sharon Verzeni doveva avere un movente forte Accolterano una persona con quattro coltellate di cui tre mortali È chiaro che non poteva esserci un movente senza alcun motivo Magari aver visto una cessione di sostanza stupefacente È chiaro che chi ha agito aveva un movente forte Oppure l'altra ipotesi su cui gli inquirenti si stanno concentrando Un tema di disagio psichico Perché stanno anche sentendo i medici di base della zona Per capire se ci sono persone con patologie psichiatriche molto gravi E che possono essere in qualche modo violente Senti, l'abbiamo detto, l'hai detto all'inizio Il compagno di Sharon e il padre sono stati ascoltati come persone informate sui fatti È uscito qualcosa da questo incontro? Qualche indiscrezione? Voi giornalisti che siete lì avete captato? Sì, lui avrebbe detto che gli è stato richiesto nuovamente di chiarire alcuni aspetti della vita Come procedeva la vita di Sharon, la vita della coppia Una vita molto riservata, quella della vittima Andava solamente a trovare i genitori a Bottanucco Lavorava in questo bar, sempre qui nella zona Usciva la sera tardi per camminare E quello che è verso è che non era uscita le sere precedenti La sera di lunedì Non era uscita il sabato, non era uscita la domenica Quindi non aveva un itinerario preciso Aveva due itinerari, uno più lungo, uno più corto E l'altra cosa che abbiamo chiarito sempre con chi indaga E che non sempre il compagno l'accompagnava Sì, esatto, questa è una cosa che era chiara un po' anche a tutti Adesso verranno ascoltati piano piano anche i vicini Gli abitanti della via dove viveva Sharon Anche da lì c'è qualche rumor, qualcosa che arriva? Sono stati convocati dai carabinieri Anche qui, poi noi qui è pieno di truppi Di colleghi della carta stampata Sono state raccolte testimonianze Che aveva sentito una macchina partire velocemente Con stridori di pneumatici Poi testimonianze che è stata in parte ritrattata In realtà, secondo me, se gli inquirenti allargano il raggio di azione Viene coinvolto il rosto dei carabinieri con il nucleo reparti violenti È perché non c'è una pista precisa Si sta cercando di allargare il più possibile Di allargare anche le telecamere dei paesi vicini Perché in questo momento non c'è un indiziato forte L'ultima domanda che voglio farti, Alberto Riguarda i cellulari Perché ovviamente stanno lavorando anche sui tabulati telefonici Di Sharon e anche di Sergio Ruocco, il compagno Pensi che quando potremmo avere degli aggiornamenti legati a questo? Sì, è stata fatta la copia forense Quindi possono essere recuperati anche i file che sono stati cancellati Anche da RIS stiamo aspettando risposte Stanno aspettando risposte degli inquirenti Non dimentichiamocelo sui vestiti della vittima Su vari coltelli che sono stati sequestrati qui in zona I tempi sono lunghi Anche per estrarre le immagini dalle telecamere Mi spiegavano I tempi sono abbastanza lunghi Formati diversi Qualità bassa È difficile dare risposte anche da RIS Stiamo aspettando Stanno aspettando gli inquirenti dei riscontri È chiaro che l'attività sui cellulari non era molta Anche della vittima Qualche gioco online Quindi Non c'è moltissimo su questi cellulari a quanto pare O comunque di anomalo, di particolare Oltre alla sua cerchia Alberto, ti ringrazio moltissimo E insomma, qualsiasi cosa Noi siamo qua Se ci fossero degli aggiornamenti Ti aspettiamo qui in studio